ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video anti vigilia della partita juventus torino del derby della mole come la va allora so che siete già lì con la testa ma in questo video diremo anche tante altre cose e parleremo della champions perché ieri sera si è giocato una partitina scapole ammogliati vs giri al madrid e voglio cercare di tirar fuori delle indicazioni anche da questa cosa qua mentre ragù è arrivato a farci compagnia come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video e di scaricare one football il link per scaricare l'applicazione è qui sotto in descrizione oppure inquadrando con la fotocamera il vostro smartphone questo qr code in sera il download in automatico fatelo proprio perché vorrei anche iniziare a capire le novità di formazione in vista toro e ovviamente con un occhio di riguardo rispetto alla champions che è tra sei giorni perché proprio quello il punto non so se avete visto il video che ho fatto uscire ieri insieme a chino lello e ad avom signori io c'ho questa paura io c'ho questa paura che la juventus e i calciatori della juventus siano già più proiettati alla sfida col villareal rispetto alla sfida con il toro di venerdì perché personalmente è così e so che non dovrebbe essere così so che non dovrebbe essere così ma io c'ho già la testa lì perché quando si avvicinano questi appuntamenti e quando diavolo stiamo parlando di giocare la coppa dei campioni fase eliminazione diretta non ci riesci poi ti metti a guardare le altre partite no ieri si era guardato il psg contro il real madrid appunto potevo guardarmi benissimo le city che massacrava lo sporting che avevamo estratto noi poi magari noi avremmo presi 5 perché il calcio non si sa non si sa mai e sono già in ansia sono già dentro quella partita lì e allora se vi dico vi faccio una domanda nella maniera più sincera possibile voi siete più vocalizzati sul toro sul villareal perché per me è assurdo essere più vocalizzati sul toro sebbene lo consideri logico è normale che sia così è la prossima partita bisogna giocare quella bisogna addirittura vincerla per un discorso di classifica complicata per forza di cose tu guardi quella lì però non ce la faccio cioè è più forte di me è la mia parte inconscia che che mi proietta già quell'altra proprio perché è una roba diversa e pensare che noi in questo momento stiamo giocando e lottando per raggiungere almeno la quarta posizione perché sennò queste serate queste emozioni queste attese queste ansie ci spazioiamo la bocca secondo me è brutto è molto brutto e quindi anche questa dovrebbe essere un uno sforzo a farmi preferire la partita di venerdì nel senso se la vinci migliori in classifica poi magari l'Atalanta qualcosa lascia indietro tu recuperi e va in zona champions e quindi tutto a posto però non ce la faccio lo stesso cioè io lo so sono cose che io so che ve le sto anche ripetendo ma alla fine invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia proprietà commutativa la real nella mia testa è già più grande e come dicevo ieri invece sono abbastanza convinto che nella testa di allegri paradossalmente sia più importante il toro anche dopo averlo giocato proprio perché c'è un'andata e un ritorno di questa partita è una partita che va pensata sui 180 minuti piuttosto che sui 90 e allegri storicamente si preoccupa molto di più sulla gara di ritorno nella gara di andata magari fa anche qualche esperimento delle formazioni non ottimali per cercare di limitare i danni da parte degli altri è vero che quest'anno senza il discorso golfo ricasa vale doppio andrà a modificarsi e quindi speriamo che possano essere due partite belle giocate bene dalla juventus però non sono nemmeno sicurissimo non sono qua a giurarvi che possa essere così proprio perché col toro mi aspetto il tre dente pesante col villareal no mi aspetto il 4 2 3 1 solito o 4 4 2 insomma due punte uno del tre dente fuori per entrare a partita in corso e cercare di dare una smorzata alla partita e cercare magari di vincerla anche solo con minimo scarto nella gara di andata e concentrarsi al ritorno sulla qualificazione in casa che visto l'andasto degli ultimi anni non so neanche se la cosa ci conviene tanto oppure no perché sembra un po' una maledizione quella degli ultimi anni della juventus che ci sta perseguitando perché questo è un parallelismo che voglio fare tra cristiano ronaldo ed elite noi compriamo ronaldo no con la voglia di fargli fare un certo tipo di percorso e poi ronaldo lo facciamo allenare il primo anno da allegri il secondo anno da sarri il terzo anno da pierlo quarto anno se ne va dopo aver rinestrato la stagione stessa cosa ha fatto delete anche qua ha invertito l'ordine dei fattori ma il risultato non cambia perché è stato allenato da sarri da pierlo e poi da allegri ed il delete vi sto parlando perché secondo me è veramente il simbolo della juventus che vuole cercare di rimanere a quei livelli lì con un difensore che probabilmente a livello di crescita età è uno dai primissimi al mondo da qui affinché non ne verrà fuori un altro o altri due altri tre che andranno a dividersi un po' la top 5 almeno dei difensori di giovane età con così grande potenziale e di delete si sta parlando perché è probabile possibile più che probabile possibile che venga rinnovato il contratto delete abbassando la clausola di rescissione del ragazzo per fare in modo di farlo rimanere alla juventus ecco questa sarebbe una cosa devo dire molto positiva proprio perché il rischio di perdere delete a fine anno io ce l'ho e poi se dovessimo mai arrivare in champions e arriviamo in champions senza delete o fai una grande campagna acquisti andando a reinvestire tutto quello che ti arriva dal cartello di delete o sicuramente un po' più complicato perché bonucci lo stai vedendo quest'anno non è più il bonucci di rendimento eh ti sto parlando di rendimento costante di tutto l'anno che è sempre stato nelle stagioni precedenti chiedini non è più un calciatore a questi livelli è un calciatore che te ne può fare 10 durante l'anno ad alti livelli per forza di cose perché il tempo passa per tutti quasi per tutti ma per tutti dicevo quasi per tutti perché poi ci sono Ronaldo e Messi che sono i due calciatori no? L'emblema del dualismo del calcio degli ultimi anni è Ronaldo contro Messi in questa stagione qui per il momento perché poi la stagione è ancora lunga anzi adesso entriamo nel vivo della stagione dove le partite si fanno esaltanti no? Per questi tipi di calciatori qua perché è quello che vi dicevo prima quando giochi queste partite respiri una roba diversa però fino adesso sia Ronaldo che Messi non grandissime cose nell'unico anno in cui entrambi si spostano nell'anno in cui cambiano tutto cambiano loro comfort zone poi Ronaldo torna a United va bene questo è un altro discorso però Messi fino adesso non benissimo esclusa la Champions dove comunque ha fatto un sacco di gol Ronaldo e Messi hanno fatto tanto bene in Champions meno bene in campionato dove Ronaldo ha fatto un po' meglio rispetto a Messi che ha segnato la miseria di due gol in Ligan e ieri sera è sembrato il vero e proprio momento in cui ti accorgi che quell'era sta finendo e ne sta iniziando un'altra perché Bappé promesso sposo al Real Madrid parametro zero quest'estate al Madrid fa un danno incredibile ieri sera dopo che Messi aveva sbagliato il rigore quindi tra l'altro calciato anche abbastanza male mi posso permettere di dire in telecronica hanno detto ma non aveva neanche tenuto male secondo me ha tirato proprio male ma male 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 poi il fatto che sia Messi è ovvio ti fa quasi dire li tira bene per forza però è un rigore brutto per quanto mi riguarda che cosa possiamo dire della partita di ieri sera tra PSG e Real Madrid che possa agganciarsi alla Juve ho visto diversi commenti su Twitter no le diverse fazioni perché ormai di questo si tratta di amanti di Allegri e chi proprio Allegri non lo riesce a vedere i cosiddetti no Max dato che rimaniamo in tema pandemia no facciamo una roba del genere e qualcuno dice porta l'acqua al suo mulino e no il PSG ha vinto solo perché alla fine il discorso vecchio di Allegri all'ultimo secondo è che la passi la palla più forte e altri dicono no perché il PSG è attaccato per tutto il tempo e quindi si merita di vincere anche senza la fine di Mbappé è logico che se prendi solo una delle due verità e la metti davanti a quell'altra la fai risultare più vera passatemi questo paragone è sembrato di vedere una squadra al PSG ieri che è scesa in campo con un obiettivo ben preciso e cioè fare male malissimo a Real Madrid poi nel corso dell'attacco della partita perché il PSG ha praticamente attaccato tutta la partita secondo qualche momento lasciato al Madrid ma parliamo di niente nella partita del Madrid il PSG è stato super impreciso perché tante volte arrivava lì e sbagliava l'ultimo passaggio e sulle altre quarti nella zona di rifinitura non andava bene e tirava in porta e non beccava la porta o quando tirava il rigore sbagliava il rigore e mi è sembrato di rivedere un po' la Juve sotto questo punto di vista non nella mole di gioco proposta nella qualità di gioco proposta perché anche Verratti ragazzi ieri sera ha fatto una partita che io non ricordo un centrocampista della Juventus negli ultimi cinque anni almeno farmi una partita del genere come quella di Verratti ieri sera che era dappertutto ha giocato dappertutto però anche loro hanno questo difetto qua almeno nella partita di ieri sera perché io non conosco bene la storia del PSG di quest'anno però quando arrivi lì dove la palla diventa un po' più pesante perché ovviamente ci si concentra di difendere in quella zona lì qualche problemino poi è ovvio che dopo una partita in cui ai punti avresti strameritato la vittoria arriva il gol di Mbappé all'ultimo secondo e lì si è la giocata del campione fuori classe che lascia sul posto i difensori avversari passa in un fazzoletto tira in porta fa tunnel al portiere c'è di tutto lì dentro e quindi davvero secondo me ieri sera abbiamo assistito alla prima notte magica perché secondo me la Champions poi è quella che pesa un po' di più tutto il resto alla prima notte magica del post Ronaldo Messi in una stessa partita in cui Messi sbaglia il rigore e la risolve un suo compagno in extremis che per forza di cose lo dice la carta di identità e lì non si scherza il futuro del calcio uno dei crack e infatti no si era sempre detto Mbappé, Holland e io spero che tra sei giorni si possa iniziare a dire anche Vlaovic perché Vlaovic in Europa non ci ha mai giocato in Champions non ci ha mai giocato e io spero che il battesimo Champions possa essere positivo pure per Vlaovic che io lo dico tranquillamente non sono così sicuro che possa partire dall'inizio nella gara col Villareal sono sicuro che partirà dall'inizio nella gara col Toro e anche qua addirittura esagero sono anche convinto che col Toro farà gol quindi vediamo un po' come va se questa mia previsione si rivelerà esatta e noi ci vediamo oggi pomeriggio si esce qualche altra informazione da andare ad analizzare in vista nella partita col Toro se no semplicemente ci vediamo domani che è già vigilia e ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri fatemi sapere anche voi un po' qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa settimana Juve come avete visto ieri sera PSG Real, questa sera c'è l'Inter e anche qua sarà interessante cercare di capire il livello delle italiane rispetto a quelle squadre che sulla carta sono inarrivabili Grazie a tutti